buon salve oggi è sabato ieri sono andata a pesare 18 anni e si vede il risultato dei miei capelli ok, ho fatto un video precedentemente sul comicon, lo volevo postare però non lo so, ho parlato troppo parlo sempre troppo, quindi no niente diciamo che è un periodo vagamente di merda ma non solo per me, vedo un po' per tutti ah, questa è la mia nail art ogni tanto faccio vedere, guardate quanto mi diverto ho fatto tipo un fiocchettino solo che si vede veramente poco madonna che faccia comunque niente ho parlato del comicon in pratica volevo dire che ho portato che ho portato il cosplay di misti dei pokemon, la tizia con il cartello della crisi quindi se qualcuno ha delle foto che mi taggasse, cazzo niente, è stato bello molto più grande degli altri anni molto più caro degli altri anni ecco infatti non ho comprato nulla sinceramente però mi sono divertita perché è stato era molto più ampio poi c'erano molti più giochi non lo so, mi sono divertita divertita, divertita è anche piaciuto il fatto che hanno messo il monopoli gigante va bene, sono andata solo due giorni arrivo a faricandarne anche tutti e quattro però ho avuto altri impegni quindi no e allora se tu sai che voce di cazzo che tengo perché in pratica questo è il mese dell'allergia allora non si capisce comunque in pratica che dico sempre in pratica comunque è il mese dell'allergia sia io che alcuni miei amici siamo tutti quanti tipo attappati di naso che non respiriamo che stiamo morendo perché c'è il polline che gira quindi facciamo una colletta per uccidere il polline e niente quanto riguarda l'accademia da sereno comment perché comunque sembra sempre più tosta che mai io mi sento sempre più al di fuori che mai ecco più al di fuori e si avvicinano pure i santissimi gli esami che sono tostissimi e lasciamo stare va meglio non parlare perché poi c'è professori su facebook quindi non posso dire più di tanto questo è il motivo intanto mi sto togliando le scarpe mentre ecco no dovrei anche mettermi il pigiama visto che è sera figurati ormai oggi proprio scucciato fidanzato e boh così sto boh esistono tanti ragazzi al mondo perché non facciamo un bello stermine ecco tipo faccio come Hitler propongo lo stermino di tutti i maschi e ci togliamo il pensiero comunque niente faccio gli auguri a tutti Fabio per ieri gli auguri a Valeria per ieri gli auguri a Giorgio per domani gli auguri a me tra due settimane ecco tra due settimane è il mio compleanno più o meno forse tra uno o due non lo so comunque il 21 e niente si vede da questo più di fe grande più di fe scemo quindi guardate guardate i risultati il prima e il dopo cioè vedevi prima una persona che studiava tutta bella tranquilla il dopo tipo e niente parlare di cose serie penso faccio un altro video dove parlano della Elf perché voglio fare un altro video della Elf ma non mi sono stato sfondato vabbò e se qualcuno non lo so vuole vedere come faccio le mie unghie non lo so lo dico sempre faccio sempre proposte poi se qualcuno vuole rispondere ah ci sono in molti godi erano il mio accento napoletano ma vaffangulo